Buongiorno a tutti, se tutti si vogliono accomodare cominciamo, grazie. Allora di nuovo benvenuti, io sono Adele Sassella e sono tra le tre persone che del Dipartimento di Scienza dei Materiali hanno pensato di organizzare questa mostra e di fare una festa per la carriera brillante del professor Borghesi che è qui con noi. Insieme con me ha lavorato del mio Dipartimento Emanuela Sibilia che purtroppo è all'estero proprio oggi, quindi non è con noi, Silvia Tavazzi che è qui davanti a me, ma in realtà tutto il personale, tutti i colleghi, tantissime persone ci hanno dato una mano e devo dire lo stesso dell'Ateneo, ogni volta che abbiamo avuto bisogno di qualcuno, si sono veramente tutti dati da fare anche con generosità e con passione e di questo ringraziamo naturalmente tutti quanti. La mostra che andremo poi a presentare e a visitare è stata possibile perché abbiamo collaborato con l'Università di Pavia, anzi gran parte dei pezzi esposti sono proprio dell'Università di Pavia, abbiamo collaborato col sistema museale e con il Dipartimento di Fisica e anche lì sono tante le persone che devo ringraziare per il prestito, ma per l'assistenza, per anche il catalogo, quindi la parte storica e scientifica che abbiamo curato appunto tutti insieme. Sempre di nuovo un ringraziamento per un'altra parte della mostra che sono gli strumenti per l'ottica e l'optometria, anzi dedicati proprio all'optometria, che vengono in gran parte da una collezione privata, la collezione Chierichetti dell'ottica Chierichetti che è un negozio storico di ottica di Milano. In realtà poi abbiamo avuto un supporto davvero grande e forte sia dal punto di vista pratico ma soprattutto scientifico, dal professor Bellodi che è qui davanti a me, che sentirete sia per la fisica sia perché è un grande esperto di strumenti antichi, quindi anche a lui un ringraziamento proprio di cuore ma appunto sentirete da lui. A questo punto fin dall'inizio devo dire che appena abbiamo messo a punto l'idea, siamo andati dal nostro rettore, dalla professoressa Messa, a esporgliela e subito ci ha dato il suo sostegno, il suo supporto e mi pare abbia colto un pochino lo spirito con cui abbiamo intrapreso questa iniziativa. A questo punto le chiedo, un piccolo borghese esce, a questo punto le chiedo se vuol prendere la parola e la ringrazio di essere qua. Grazie, grazie molto e buongiorno a tutti, è un vero piacere essere qui oggi e a portarvi i saluti e i complimenti per aver avuto questi iniziati e vedo anche dagli oggetti che poi saranno esposti alla mostra anche l'attenzione e anche la bellezza degli oggetti che verranno esposti. Credo che nel mondo della scienza la capacità di portare la storia nella scienza, di sempre tenerla ben presente sia un elemento di grande crescita sempre, di grande crescita culturale e anche di comunicazione e di diffusione di quello che la scienza ha fatto. Devo dirvi che sapete che io pur essendo medico dialogo moltissimo con i fisici, adesso non voglio togliere nulla ai chimici, ad altri però insomma soprattutto con i fisici. Ho passato la giornata di ieri a un convegno di neutronici che il professor Fontanesi conosce bene, dove Luisa Cifarelli che è presidente del centro Fermi ha fatto vedere come il centro Fermi stia lavorando alla ricostruzione del palazzo di via Pagnisperna, alla fontana, la famosa fontana dei pesci rossi, come questi diventino poi dei simboli di quello che la scienza, Fermi in questo caso, aveva portato di nuovo e che è ancora estremamente attuale. Quindi come ci sia un'attenzione, come l'attenzione a questi aspetti della storia sia particolarmente importante, in realtà sia un elemento che riguarda non solo gli scienziati, ma noi professori, ricercatori e anche i nostri studenti che imparano presso questo Ateneo. Quindi ringrazio ancora per l'iniziativa, non porto altro tempo perché così ci spiegherete bene di cosa è fatta e com'è nata e auguro un buon pomeriggio a tutti e grazie ancora. Grazie ancora per essere qui e grazie per le sue parole gentili. Adesso chiederei al professor Fontanesi, il nostro primo rettore che ha gentilmente accolto l'invito di essere qua, di nuovo di dirci due parole e lo ringrazio ancora. Sono io che devo ringraziare per essere stato invitato e devo ringraziare soprattutto il professor Borghesi, ma non tanto per quello che ha fatto come lui pensava, ma perché ci ha dato l'opportunità oggi di rifare un consiglio di facoltà che ormai non vanno più di moda, ma più o meno, se mi guardo in giro mi sembra di vedere un consiglio di facoltà di qualche tempo fa. Comunque grazie, grazie per tutto quello che il professor Borghesi ha fatto. Il professor Borghesi è stato uno dei fondatori, anche se non primissimo perché lui quando è arrivato all'università era stata già in qualche modo costruita, però è stato uno dei primi chiamato su una delle cattedre che Ruberti aveva dato per i nuovi corsi di studio che avrebbero costituito la nuova università proveniente da Modena, dove era professore ordinario di fisica generale. È stato il secondo preside della facoltà di scienze dopo la professoressa Rucche che è qui e poi è stato direttore del dipartimento di scienza dei materiali. scienza dei materiali è stata una delle cause, se vogliamo, della nuova università insieme alle biotecnologie e scienze dell'ambiente perché la facoltà di scienze a un certo punto prese la decisione di dedicarsi a queste nuove discipline in settori più applicativi e cercava degli spazi dove poterli fare e gli spazi poi furono trovati qui in Bicocca. Il professor Borghesi si è unito a noi in questa avventura e ha dato un suo contributo importante, un contributo importante non solamente nell'attività di ricerca che certamente è quella più qualificante per un professore soprattutto nel settore sperimentale, ma anche per quanto riguarda la parte didattica è stato il creatore del corso di laurea in scienze dell'ottica e dell'optometria, creatore nel senso proprio creato dal nulla e poi copiato da molte università italiane, non ben visto a livello generale perché andavamo a invadere uno spazio che altri pensano o pensavano, spero che si siano ravveduti, pensavano fosse solo di loro aspettanza. Quindi devo ringraziarlo perché appunto oltre attività didattica e di ricerca ha speso moltissimo del suo tempo per gestire l'università, per dare un contributo al funzionamento della comunità e questi colleghi se lo devono sempre ricordare. I professori devono continuare a gestire l'università se vogliono che questa mantenga il significato che ha sempre avuto, perché possono portare certamente non l'esperienza amministrativa, non l'esperienza tecnica che quella spetta ad altri, ma portano l'esperienza di chi deve trasmettere la conoscenza, deve far progredire la conoscenza e quindi una gestione diretta è quanto di più importante credo ci sia perché l'università possa continuare a essere quello che tutti noi abbiamo amato nella nostra attività per tanti anni. Ho visto qui alcuni strumenti che vengono dal Museo di Pavia, alcuni di questi strumenti io li facevo vedere agli studenti, non perché il mio corso fosse un corso di storia della fisica, ma glielo facevo vedere proprio riguardo al titolo del museo, l'esperienza, e la domanda è ma come facevano a quei tempi, nel Settecento, all'inizio dell'Ottocento, a fare esperimenti che sono stati la base poi delle conoscenze di fisica e non solo di fisica, dei tempi successivi, come facevano con strumenti così primitivi, con materiali così raccolti da esperienze più diverse, a fare quello che facevano. E questo deve insegnare che appunto se si vuole fare qualcosa di importante, qualcosa di nuovo, bisogna cercare sempre di, prima di tutto, di metterci qualcosa di proprio. Poi naturalmente oggi non si possono fare più gli esperimenti con questi strumenti, ci sono strumenti estremamente più sofisticati, ma quello che conta è la testa, sono le idee e queste sono soprattutto la curiosità e lo spirito di iniziativa, che è quello che dobbiamo trasmettere ai nostri studenti se vogliamo che anche loro poi possono portare contributi importanti allo sviluppo della conoscenza. Ho parlato poco di Borghesi, quindi mi ricordo che c'era il mio predecessore come preside di facoltà, è stato il professore di matematica, e diceva sempre, quando da vivo cominciano a parlare bene di te, hai da preoccuparti, guardati bene, perché dice che è venuto alla fine, quindi non credo che venga per noi la fine, ancora non ci siamo, però io ti ringrazio molto, ti ringrazio molto, un abbraccio molto affettuoso, tu sai che al di là della stima c'è fra noi anche dell'affetto. Grazie. Grazie molto professore, vorrei adesso che il nostro direttore di dipartimento, il professor Martini, prendesse la parola. Sì, grazie. Avete visto in questo programmino che è stato messo insieme, che abbiamo un titolo di un intervento congiunto con il collega Danilo Porgo, il nostro preside, si chiama così, io parlerò un po' brevemente di come ho conosciuto il professor Borghesi, tra l'altro aiutandomi con un paio di foto, non più di due. Noi oggi speravamo anche che arrivasse la comunicazione dal Ministero, perché il Dipartimento da prima e il Senato accademico hanno approvato all'unanimità la sua nomina ai merito, lo stiamo aspettando. Il Ministero insieme ai suoi tempi, quindi noi li... Con Borghesi ci conosciamo da tanto. E io ricordavo un caso di... Ho scoperto poi di quasi 30 anni fa. Adesso se riesco a farlo. Ecco qua. Grazie, sì, va bene così. Ecco. Cosa ho fatto? Il segretario era qui di fianco a me, di questo corso, 1987, qualche anno fa. Mi ha fatto piacere ritrovarlo, perché ricordavo questo, dove Borghesi aveva presentato la spettroscopia trasformata di Fourier nell'infrarosso. Quello è interessante anche perché ci aggiungo una piccola nota personale. In quegli anni stavamo lavorando con il professor Spinolo, che mi fa piacere di vedere qui oggi, con un vecchissimo strumento dell'ICM, l'Istituto di Chimica delle Macromolecole, dove addirittura, invece che era trasformata di Fourier, lavoravamo in trasmissione. Quindi c'era un reticolo a fili. Una cosa meravigliosa, che avrebbe una degna collocazione nella mostra di oggi. Quindi io ho fatto un po' di scavi archeologici, come si confa alle mie competenze, nel mio ufficio, ho trovato effettivamente questo, che stamattina ho fotografato, ho scannerizzato. Come vedete era un corso che si teneva a Castromarina. Quindi lo ricordo con particolare piacere sia per questo, sia anche perché da allora poi abbiamo approfittato dell'idea e abbiamo fatto una serie di corsi in quella sede. Ma dunque questo risale al 1987, quindi un po' di anni fa effettivamente. Ma nello stesso anno anche, ecco, questo non ve l'aspettavate, si vede poco purtroppo, ma ringrazio Maddalena Patrini, a cui ho chiesto, dico, io non ci sono nella foto, ma è stato uno di ricordare, dovevi dire, which is which, no? Ma per esclusioni si vede, si vede, ecco. No, dico se si vede la freccia qualche delle volte. Eccolo qua, è lui. Quanto a questo è il collega Guizzetti che vedete qua. Eh sì, un po' di anni fa, insomma. Comunque io ho piacere a questo punto di rivolgermi direttamente al professor Borghesi, appunto ricordando quanto è già stato fatto dal professor Fontanesi, il grande apporto che lui ha dato, non solo nella spetroscopia infrarossa trasformata di furie, ma poi anche come preside, poi come direttore, soprattutto anche con la creazione del corso di ottica e optometria. Una piccola nota personale, io sono succeduto al professor Borghesi, quindi lui mi ha passato le consegne e in questo devo dire che è stato del genere, devi imparare a nuotare, mi ha buttato nell'acqua e mi ha abbandonato, e di questo però io sono molto grato in effetti, perché poi naturalmente siamo andati avanti molto in collaborazione. Quindi l'ultima cosa che vorrei dire, naturalmente, è che a fronte di una brillante carriera e piena di contributi, naturalmente gli auguriamo, anche se magari, come diceva Fontanesi, lui tocca a ferro, ma insomma gli auguriamo ancora un grande futuro, perché di questo contiamo ancora su di te molto. Grazie. Prorettori del nostro Ateneo e amico del professor Borghesi, prenderà la parola. Allora, prima di tutto metterò nel mio curriculum che il rettore ha coordinato, sì, questo lo metto nel curriculum. Due, non essendo in grado di dire qualcosa di aggiuntivo dal punto di vista istituzionale, caro Alessandro, io ho preparato cinque note del tutto personali, per far conoscere anche tutti, chi sia non Alessandro, non il professor Borghesi, ma Alessandro, e me lo devi concedere. Non autorizzate. Non autorizzate. Dunque, Adele mi ha chiesto qualche mese fa e ha usato queste parole e mi dice, mi chiede di dire qualcosa in questa occasione, prego, e quello a cui ho pensato, mi devi perdonare, ho pensato che fosse gravemente malato, però, onestamente, nei primi dieci centesimi di secondo ho pensato, è successo qualcosa, non so nulla e ci si sta preparando. Ovviamente mi sono ripreso e il primo pensiero, quando penso al professor Borghesi, se non penso dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista personale, il pensiero è questo. Dunque, voi dovete sapere, membri dell'ex facoltà, che il professor Borghesi, il sottoscritto, e qui vedo, Gian Paolo Giuliani e Carrea Giacomo, responsabile all'area della ricerca a quel tempo, e Giacomo Carrea, direttore di un dipartimento del CNR, ogni tre, quattro volte all'anno, si bigiava e si andava a pranzo, ma anche a 200-300 chilometri. E la filosofia era che ognuno di noi sceglieva il posto, prenotava, doveva fare da Cicerone per gli altri, sul posto, sia dal punto di vista geografico e dal punto di vista storico, alle ore 13, ora est, e si andava a pranzo. Il posto preferito dal professor Borghesi era sicuramente Carrù. Perché è di Carrù? Ma quando andavamo a Carrù, andavamo sempre nello stesso macellaio, a vedere lo stesso asilo, la stessa scuola, lo stesso ristorante, la stessa casa di Einaudi. Il giro era lo stesso. E noi tre, contenti di vedere il professor Borghesi, tutto contento di raccontarci sempre le stesse cose. Però sprizzava gioia e passione che ci mettevamo in fila indiana aspettando l'ore 13 per poter andare a pranzo. In una dei viaggi ho trovato anch'io questa foto. È stato un ragazzo, io non lo ricordo come tale, perché non l'ho mai conosciuto, ma signori, qui è ancora più giovane. È ancora più giovane. Non ricordo in quale casa ho trovato questa foto, io ho fatto la foto, e credo di uno di voi due, e ho detto, io dicevo, ma chi è questo qua? E uno di loro due mi diceva, ma com'è chi è? È Alessandro. E quindi ho fatto una foto, ci ho messo un po' a ritrovarla, magari ci ho messo un attimino, è stato un ragazzo. Ed è anche un burlone. Non più tardi di due mesi fa, mi manda questo, prego, è un filmato che io non riporto, non lo riporto, ma vi prego, se digitate, volevo vedere cosa stavi facendo, un bip, come al solito, vi prego di digitarlo, di trovarlo. E ancora, quando lo mostro ad amici e conoscenti, ridiamo, perché, nonostante tutto, arrivo al quinto e ultimo punto. Queste erano tutte note personali, non c'è nulla sotto questo cinque, ma è ancora una nota personale. Io ho conosciuto Alessandro come preside, credo che nei tuoi cinque o sette anni, sette erano? Cinque. sette perché erano? Tu si è riuscito a fare qualcosa come 150-160 prese di servizio, ovviamente con la collaborazione di tutte le istituzioni in quel momento, soprattutto in un periodo in cui non si poteva assumere. Ovviamente non solo, ma con la collaborazione delle altre istituzioni e anche del Consiglio di Presidenza che hai costruito intorno a te. Dunque, in prossimità dell'ultima riunione di Consiglio di Facoltà, mi chiese un consiglio personale, mi disse, senti, io vorrei mostrare alla Facoltà quello che è stato fatto e non è stato fatto. E a titolo personale mi chiese, lo ritieni arrogante mostrare tutti questi dati o ritieni che abbia un senso? Ovviamente aveva già deciso, ma che mi pregava molto di qual era il mio punto di vista, però volevo ringraziarti e per questo che ti chiamo ancora Preside. Grazie. Grazie anche a Danilo, anche per il tocco personale. Adesso chiederei al professor Guizzetti, professore dell'Università di Pavia e amico caro di Borghesi, ma professore di fisica che è sempre nel mio cuore, come gli dico ogni tanto, di prendere la parola e di raccontarci il professor Borghesi, spettroscopista nel secolo scorso. Marco Martini, che è amico da lungo tempo, ci siamo conosciuti anche in questi nostri viaggi, il professore va a congresso in Cina e in altre parti. e ringrazio anche in particolare la professoressa Sassella, che è stata mia laureanda nel 1988-89, per l'invito a parlare del collega ed amico Sandro Borghesi, spettroscopista nel secolo scorso a Pavia, non solo perché ho condiviso con lui quasi 30 anni di attività didattica e scientifica, ma anche perché potrei dire che dal 1963, come dirò brevemente, le nostre sono state vite parallele. Plutarco, se fosse vivo, l'avrebbe sicuramente, ci avrebbe inserito nel suo famoso volume, le vite parallele degli uomini illustri. Comunque, parlerò in molti casi al plurale, proprio per questo, intendendo come soggetto, Sandro, non Alessandro, per noi era Sandro, e il sottoscritto. E seguirò anche alcuni appunti, perché, per non divagare, non perdermi il filo, perché, a causa dell'intermittenza delle sinapsi dovute ai miei 70 anni, quindi ogni tanto sbando. Quindi, ci siamo iscritti entrambi all'Università di Pavia, a corso di laurea in fisica, nel 1963. Sandro come allievo del Collegio Universitario Plinio Fraccaro, aperto proprio in quell'anno. Io come allievo del Collegio Universitario Fratelli Cairoli. I due collegi furono, da subito, acerrimi nemici. non solo in occasione delle partite di calcio e di basket, ma ciò non fu di ostacolo al nostro sodalizio. Sandro era studente lavoratore, in quanto diplomatosi all'Istituto Feltrinelli di Milano, fu assunto nel 1963 dall'Istituto di Fisica Nucleare dell'Università di Pavia, come tecnico elettronico. In questa veste, oltre a supportare i gruppi di ricerca, ovviamente, dell'Istituto, assisteva gli studenti di fisica, tra cui anche il sottoscritto, nei corsi di esperimentazioni e di laboratorio. E partecipava, come giocatore, anche ad alcune partite di calcio fratennici e docenti. Se mi fai vedere la prima immagine, che è insomma, PDF, si non è autorizzata, eccola, è un po', lì si vedono molti colleghi smutandati, Borghesi è quello in alto, il secondo a sinistra, da sinistra in alto, in parte a Samoggia, in piedi, si in piedi, quello in piedi, si vede la freccia, comunque, eccolo, si intravede, la crocetta, quello in parte a lui è Samoggia, e comunque, però nel calcio, mi dicono che non mostrasse particolare talento. Allora, ci siamo laureati entrambi, col professor Giuliano Bellodi, con due tesi riguardanti lo studio degli stati di superficie in semiconduttori mediante spettroscopia infrarossa. Furono due tesi sofferte, perché le pompe a diffusione di cui disponevamo allora non consentivano di raggiungere vuoti efficienti e sufficienti a mantenere la superficie del campione pulita durante il tempo di misura, quindi subito si depositava di tutto. Dopo la laurea, su proposta del direttore dell'Istituto di Fisica Nucleare, che era il professor Alberto Gigli Bertolari, furono inseriti con Bellodi nel gruppo quinto della sezione di Pavia dell'INFN, quindi noi eravamo nati come fisici nucleari, anche se abbiamo sempre continuato la ricerca in fisica dei solidi. Nel 1976, per motivi di riasetto interno all'Istituto, migrammo tutti e tre nell'Istituto di Fisica Alessandro Volta, diretto allora dal professor Giulotto, che molti dei presenti ricordano per le sue epiche battaglie a favore della fisica e della struttura della materia in Italia in quegli anni. Lasciato l'INFM, quindi afferimo a che cosa? Al Gruppo Nazionale di Struttura della Materia del CNR, che in quel momento era il principale finanziatore della ricerca a livello universitario. Nel 1978, Sandro ottenne l'incaico di misure elettriche, mentre io ebbi l'incaico di laboratorio di fisica 2, sempre in parallelo. Nel frattempo c'eravamo anche sposati, avevamo avuto due figli quasi coetanei, e nell'82 seguimmo entrambe... Non tre di voi! Non tre di voi! No, 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 no! Quali... Eh... Un etero... Sì, una... Nel 1982 conseguimmo l'idoneità ad associato entrambi. Nel 1986 io risultai vincitore del concorso di prima fascia e fui chiamato a Modena in facoltà di medicina e venne richiamato a Pavia nel 1981. In quell'occasione passai il testimone a Sandro che a sua volta vincitore di concorso fu chiamato a Modena sempre a Modena sulla cattedra di fisica sanitaria. Un collega che purtroppo è deceduto giovane disse allora Claudio Canali è bene avere sempre in ostaggio un pavese nella nostra università. In realtà anche Sandro lasciò Modena nel 1998 quando fu chiamato come professor ordinario di fisica sperimentale 1 alla facoltà di scienza dei materiali nella neonata università di Milano Bicocca. In tutti gli anni di Modena in realtà continuiamo entrambi la nostra collaborazione anche perché l'attività di ricerca sperimentale fu sempre svolta in quegli anni principalmente a Pavia. Fu nel 1998 che le nostre strade si divisero anche perché entrambi furono impegnati in organi istituzionali in attività gestionali. Veniamo ora all'attività di Borghese in spettroscopia ottica a Pavia. Nell'istituto Volta quando noi entriamo nel 1976 erano attivi diversi gruppi di ricerca operanti su tre filoni storici principali risonanza magnetica nucleare c'era Bonera Rigamonti Borsa i tre anziani spettroscopia ottica c'erano Samoggia Stella Giuliani Mascheretti Regussoni di Stefano Borghi era il gruppo più grosso risonanza paramagnetica elettronica Lanzi del Nero Moniaschi Bellodi Sandro ed io avevamo già precedentemente collaborato con il gruppo di Samoggia e Regussoni per cui il nostro inserimento nel nuovo istituto fu abbastanza agevole anche se la strumentazione di cui disponevamo allora non era particolarmente varia da giornata cioè era dovuta principalmente al fatto che la parte del Leone nella suddivisione locale dei fondi che arrivavano dal GNSM lo faceva il gruppo dei più anziani cioè quelli di risonanza magnetica nucleare cioè Bonera Rigamonti e Borsa il nostro gruppo sopperiva con alcuni contratti e collaborazioni sporadiche con enti esterni quali la SNAM Progetti e l'istituto Donegani di Novara gli apparati inizialmente disponibili riguardavano la spettroscopia in riflettanza e trasmittanza e la spettroscopia di modulazione nel cavallo di lunghezza d'onda che andava dai 150 nanometri circa i 40 micro e temperature dei campioni variabili da quell'ambiente alla quella dell'azoto liquido allora non avevamo spettrofotometri automatici costruivamo sorgenti di radiazione come vedete fa poco la lampada Globar per infrarosso la lampada scarica di idrogeno per ultravioletto da vuoto criostati a trasferimento di azoto assemblavamo componenti elettronici specchi ottici rivelatori in quei tempi l'officina meccanica e la falegnameria lavoravano a pieno ritmo mentre all'elettronica per le sue competenze speculiari pensava Sandro che inoltre formava anche e cazzolava i tecnici più giovani talvolta cazzolava anche i più vecchi per cui si ricordano ancora in dipartimento alcuni e qualche scontro molto vivace con i tecnici più anziani di lui in quegli anni la spettroscopia a Pavia si caratterizzava proprio per l'uso delle tecniche di modulazione che erano state lanciate a livello internazionale da Manuel Cardona che era poi il Masplank e da Aspnes che era il Bell Labs il nostro gruppo utilizzava la termoriflettanza mentre quello di Stella l'elettroriflettanza nello schema che vedete nella figura successiva è rappresentato lo schema blocchi pdf pdf sempre eccolo qua questo in questo la figura lo schema blocchi no di un apparato per misure di riflettanza e termoriflettanza dal visibile al lontano infrarosso vedete questo schema mentre la foto successiva mostra ecco la fotografia dell'apparato che è stato ricostruito in occasione di questa mostra tutti gli strumenti sono funzionanti per ragioni di alimentazione così ad esempio a sinistra si vede tutto a sinistra nostra c'è la lampada ecco possiamo guardare possiamo guardare lo schema però forse è più chiaro c'è una lampada no indietro questo è quello per temoriflettanza eccolo c'è una lampada global costruita in casa raffreddata ad acqua infatti voi vedrete dal vero che ci sono i due cannellini per l'acqua c'era un monocromatore a prismi di ioduro di cesio doppio prisma che permetteva una risoluzione mica male ma bisognava tararlo tutto e ci permetteva di arrivare fino a 40 micron di lunghezza d'onda poi c'era uno specchio di collemazione specchio d'oro gli specchi d'oro sono stati rubati tutti Sandro quindi abbiamo dovuto sostituire quelli di alluminio il campione che poteva essere posto eventualmente nella coda di un criostrato un chopper che modulava il segnale alla frequenza di circa 11 Hz e poi il rivelatore a cella di Golè che allora era il rivelatore pneumatico che era il migliore sul mercato per misure a temperatura ambiente dopo vennero i piroelettrici ma in quel momento i piroelettrici poi c'era l'unità di controllo del segnale della Golè un amplificatore lock-in e poi il segnale veniva integrato bene nonostante il lock-in avesse delle prestazioni ottime il lock-in della para permetteva di rivelare un segnale su un fondo cento volte più grande di rumore il segnale era molto ballerino Sandro e io facevamo misure di notte per evitare gli sbalzi di tensioni dovute alla partenza dell'ascensore e del montacariche misure indaginose pesante alla fine di tutto bisognava integrare almeno 3-4 minuti il segnale fu una cosa molto pesante nella slide successiva si vede ecco l'immagine questo invece era l'apparato che usavamo per misure di termoriflettanza nell'intervallo spettrale dal visibile da 2 fino a 9 elettronvolt lì avevamo sostituito le pompe a diffusione con le trappole all'erziolite quindi tutto il sistema era sotto vuoto e quindi lì si riusciva arrivare fino a 9 elettronvolt che è in lungo quindi nell'ultravioletto da vuoto all'inizio dei ecco però prego la prossima la prossima ecco questo è il nostro primo lavoro cioè è mandato una conferenza internazionale della fisica dei semi metalli di neurogepsi ma il condatto di cardife ed segue in successione il primo lavoro che facciamo assieme ne avevamo già fatti altri ma questi nel gruppo con Regussoni Samogia Nosenzo vedete che Bellò di Guizetti Borghesi e Guizetti hanno l'asterisco perché abbiamo ancora istituto nazionale di fisica nucleare quindi eravamo ancora in quell'istituto credo che ci sia una live successiva ecco qua fa vedere la riflettività e la curva in alto con quelle due panze quei due bozzi e sotto invece si fa vedere la curva di termoriflettività la termoriflettività come le tecniche di modulazione era una tecnica derivativa perché dello spettro di riflettività in realtà forniva la derivata prima quindi vedete che quei bozzi che si vedono nella curva in alto diventano in basso delle strutture ben risolubili addirittura l'elettroriflettanza che usava Angiolino Stella permetteva di avere la derivata terza quindi molti dettagli che non erano altrimenti risolubili con misure semplici di riflettanza allora all'inizio degli anni Ottanta Bellodi lasciò la ricerca sperimentale per dedicarsi alla storia e alla didattica della fisica Samoggi implementò nuove tecniche Ramane e Luminescenza costituendo un nuovo gruppo con Camani e alcuni giovani Reguzzoni paro della cattedra si ritirò sull'Aventino Sandro e Dio rimanemmo un piccolo gruppo in cui Sandro principalmente curava la parte sperimentale la gestione degli apparati e le misure e io lo sviluppo di modelli interpretativi e elaborazione dei dati allora non avevamo teorici dello stato solido nel nostro dipartimento oggi ce ne sono forse troppi e insieme iniziamo una proficua collaborazione col professor Angiolino Stella a partire da quegli anni a metà degli anni Ottanta e qua c'è la svolta una serie di tre fortunate circostanze che ci permise di realizzare un laboratorio di spettroscopia ottica con strumentazione d'avanguardia uno la prima ragione era che il CNR bandì una serie di progetti finalizzati e strategici in particolare il MADES dotato di cospicui finanziamenti che ci permisero di avere dei finanziamenti anche dei gruppi e non solo finanziamenti ma anche collaborazioni organiche con le industrie questo fu il primo fatto il secondo il gruppo nazionale di struttura della materia GNSM sotto la presidenza di Angiolino Stella non finanziò più le unità di ricerca in toto non arrivavano i soldi a tutta l'unità di Pavia ma le attribuì ai settori 6-7 settori di cui quello di semiconduttori di cui a cui afferivamo noi e attribuì ai settori un budget che veniva diviso fra gli afferenti fra i gruppi afferenti in base sia ai loro progetti e alla loro produttività scientifica con la possibilità di finanziare anche della grossa strumentazione le famose cosiddette particelle pesanti finalmente il nostro gruppo a Pavia riuscì ad avere dei finanziamenti senza che venissero tutti incamerati dai più anziani in terzo nel dipartimento ristrutturato ristrutturato pur avendo 10 anni perché rischiava di crollare per una serie di errori di esecuzione di progettazione e così via ottenemmo dei nuovi spazi e un nuovo laboratorio di spettrofotometri ottica che fu allestito e diretto ovviamente da Sandro grazie a questi fattori riuscimmo a acquistare una serie di spettrofotometri automatici che allora in Italia erano presenti in pochi laboratori universitari vuoi provare a vedere vai avanti questa era la magneto ottica se mani parliamo dopo vai avanti sì ecco questo qua qua siamo con Stella quando agli inizi della nostra collaborazione qua siamo Lisbona l'EPS di Lisbona ecco progetti dunque qua dobbiamo essere foto degli strumenti slide diciamo 15 eccoli qua eccoli qua questi sono gli spettrofotometri quali erano gli spettrofotometri essenzialmente lo spettrometro trasformato di Fourier Bruecker che ci permetteva di andare da 2 a 1000 micron quindi completamente fino al limite delle microonde un elissometro sopra che andava dal primo infrarosso fino all'ultravioletto da vuoto e lo spettrofotometro varian che era un grande spettrofotometro che andava da 175 a 1800 nanometri in quella precedente ecco si vedono tutti i progetti del CNR in cui che erano stati lanciati in quegli anni da cui noi ottenemmo finanziamenti quindi ce ne erano tanti erano tempi anche molto felici devo dire ecco a proposito andiamo pure avanti voglio raccontare un piccolo dettaglio dello spettrofotometro Bruecker sul mercato in quel momento c'erano tre apparecchi di tre ditte diverse sostanzialmente equivalenti come prestazioni e allora Sandro li contattò tutti e tre ma uno che era probabilmente la BOMAM non aveva l'assistenza in Europa quindi se si fosse rotto bisognava mandarlo negli Stati Uniti era una cosa il secondo di cui non faccio il nome Sandro parlò con il rappresentante e disse io vorrei parlare però con l'ingegnere per chiarire alcune cose l'ingegnere che realizza nel centro di assistenza europeo dice vorrei parlare andare a vedere lo strumento magari prima ancora che ce l'inviate per vedere alcuni dettagli l'ingegnere disse senz'altro può vedere quando vuole dopo un po' arrivò l'invito ufficiale per andare in una nota capitale europea dove c'era il centro di assistenza in cui con le nostre consorti saremmo andati a vedere il balletto saremmo andati al concerto alla gita sociale e tutto il resto ma ovviamente di Tennessee non si parlava niente Sandro incavolatissimo non te ne direi proprio incazzato quella volta e anche inorridito cancellò immediatamente lo strumento perché poi alla fine tutte queste regalie si sarebbero ripercosse sicuramente con il costo finale l'avremmo pagato ancora noi invece la broker disse sì sì lei può venire quando vuole e Sandro sui spese andrò una settimana a Calzure e stette lì a vedere quando montavano tutto lo strumento pezzo per pezzo e come lo veniva tarato devo dire che questa questa sua iniziativa ci evitò di ricorrere all'assistenza in diversi casi di guasti gli riparava Sandro oggi lo strumento è ancora attivo ma noi sentiamo la mancanza di Sandro con i nuovi strumenti potremmo anche continuare lo studio delle proprietà fondamentali dei solidi delle cui principale tematiche ecco sono queste che vedete negli anni 80 ma oggi non vorrei parlare troppo di fisica semi metalli e semiconduttori a struttura lamellare i cristalli magnetici i semiconduttori pesantemente drogati i silicuri dei metalli di transizione per una serie di motivi queste sono essenzialmente erano ricerche a carattere fondamentale poi incominciavano i semiconduttori pesantemente drogati avere delle applicazioni in particolare anche i silicuri di metalli di transizione ecco oltre alle le prestazioni di questi nuovi strumenti che abbiamo visto ci permissero di effettuare una caratterizzazione ottica quantitativa e accurata non solo studiare le proprietà le energie delle transizioni ottiche interbande dei fononi così via anche nell'ambito di contratti convenzioni con industrie le principali collaborazioni con i laboratori di ricerca industriale sono mostrati ecco queste sono le collaborazioni interuniversitarie tantissime ne abbiamo avute con i laboratori del CNR l'AMEL MASC e poi nazionali con molte università italiane come vedete e poi molte università internazionali tra l'altro mi fa piacere vedere qua ho citato in fondo l'istituto Rude Voscovici di Zagabria perché è presente l'amico Branco Pivac dove si è nascosto che è venuto apposta eccolo là che ha collaborato con noi per molti anni prima di tornare a Zagabria andiamo avanti ecco mentre invece le principali collaborazioni con i laboratori industriali furono con l'SET Michael Ectronic sia con la Gratter e Catania la Mench Electronic Materials l'Olivetti Canon l'Alcatel Teletra e la Pirelli Cavi queste sono le più importanti le informazioni che si ottenevano se vai nella prossima ecco nella caratterizzazione ottica erano tante come ben noto ma qua vedo che ci sono tanti spettroscopisti quindi è inutile che le passi tutto in rassegna le funzioni ottiche le cariche libere le omogeneità spaziali informazioni sulla superficie interfaccia questo soprattutto con l'ellissometria difetti composizionali disordine strutturale transizioni di fase magnetica così via effetti e danni di radiazione come esempio nella figura ecco c'è un esempio ecco qua si vede come col nuovo spettrometro Bruch che andava qua siamo circa a 300 300 micron si vede come a variare del drogaggio nel silicio il minimo della risonanza di plasma si sposti man mano che parte da lontano infrarossi si sposta verso il visibile e da questa e le curve continue rappresentano i fit con un modello di oscillatore di Drude Lorenz e da questo si ricavavano informazioni sul numero delle cariche libere dovute al drogaggio e quindi alle cariche effettive e sulla massa efficace dei portatori in particolare ricordo la caratterizzazione ottica dei semiconduttori pesantemente drogati questi di ossigeno in silicio e dei film di ossini truri nell'ambito dei contratti con la ST microelectronics perché da lì iniziò la nostra collaborazione con la ST microelectronics anche se Stella aveva già avuto in passato delle altre collaborazioni che portò più tardi alla fondazione del laboratorio MDM di cui parlerò fra poco devo anche aggiungere che nell'ambito dei contratti convenzioni e prestazioni conto terzi Sandro vuole utilizzare gli overhead sempre e solo per borse o assegni di ricerca per gli studenti e laureati o per incentivi ai tecnici ma mai una lira per incentivare se stesso negli anni dall'81 al 94 la nostra intensa e proficua attività produsse 78 pubblicazioni in comune su riviste internazionali con referi diverse monografie su invito sui due endbook delle costanti ottiche dei solidi e quelli editi da palica per l'accademica nell'85 e nel 91 sull'endro delle proprietà dei siliciuri metallici del 95 edito da Caremarsa sulla material sign report sulle proprietà elettriche e ottiche dei siliciuri e un applied e physical review su invito di Sandro edito John Port sulla precipitazione di ossigeno in silicio che deve essere uno dei lavori che è stato più citato credo 80.000 citazioni qualcosa di simile non sono 80.000 saranno 300 erano già tutti oltre all'attività di ricerca didattica istituzionale abbiamo dedicato molto tempo alla formazione dall'80 al 2000 dove siamo stati relatori di più di 100 laureandi specializzandi e dottorandi tenete conto che i laureati a Pavia allora e ancora adesso sono in media circa 50 per anno i nostri giovani venivano messi alla frusta da Sandro e in molte occasioni lavoravano in laboratorio fino a tarda notte oggi non è più così i giovani preferiscono la qualità della vita diversi nostri allievi più di 20 alcuni dei quali qui presenti compreso il nostro dottorando più vecchio il primo dottorando attualmente professor ordinario Franco Marabelli che vedevo prima da qualche parte è già scappato eccolo alza la mano si sono fermati in università più di 20 nostri allievi e sono professori ordinari associati ricercatori ancora più numerosi sono quelli nell'industria alcuni dei quali hanno fatto carriera fino ai massimi livelli ne vedo una qua la in cima Paoletta Geranzani che lavora tuttora la Memc tu no però perché tu eri più giovane ma ad esempio Mauro Pedrotti che è stato uno dei nostri primi laureati nell'ottanta attualmente è il presidente della Memc Electronic Materials di Novara e direttore generale dello stabilimento di Merano quindi hanno fatto anche loro sto per concludere ecco nel 1996 Sandro mentre pendolava fra Modena e Pavia fu il promotore del laboratorio MDM supportato nell'organizzazione e nella logistica da Dele Sassella allora ricercatrice si trattava della prima iniziativa congiunta fra i NFM l'Istituto Nazionale per le Scienze Fisiche della Materia rappresentato dall'allora presidente professor Carlo Calandra e una industria l'ST Microelectronics di cui era direttore generale allora l'ingegner Zocchi dal 1996 al 1998 Sandro fu il primo direttore di MDM e fin dagli inizi il laboratorio e gli uffici furono ospitati nei locali della divisione ricerca e sviluppo dell'ST Microelectronics che poi diventò pneumonics l'MDM è una facility tuttora di grande rilevanza la cui maggiore attività di ricerca sono finalizzate allo studio delle proprietà strutturali elettriche ottiche e magnetiche dei materiali per la nanoelettronica per lo sviluppo di processi innovativi e tecniche di caratterizzazione giunto a Milano Bicocca Sandro si adoperò per ottenere dal CNR un finanziamento per l'acquisto di un'ombe epitassia da fasci molecolari per materiali organici in ciò supportato dal professor Marcello Fontanesi che allora era presidente del comitato fisico del CNR l'ottenne e realizzò quel moderno laboratorio di crescita e caratterizzazione di film epitassiali che a Pavia non eravamo mai riusciti ad ottenere si si impianta perché non sei tornato a Pavia non l'avresti avuto non parlo dell'attività di ricerca Sandro intraprese anche l'attività istituzionale di organi accademici che i presenti conoscono meglio di me e che è stata ricordata sia dal professor Fontanesi che dal professor dal direttore del dipartimento professor Martini devo però ricordare la creazione del corso di laurea triennale in ottica e optometria in particolare perché i suoi super attrezzati laboratori didattici che Sandro mi mostrò non molto tempo fa hanno suscitato in me grande stupore ma soprattutto grande ammirazione sono veramente dei laboratori eccezionali vorrei concludere la mia presentazione che Sandro mi aveva raccomandato non spero che non sia un necrologio spero di averti accontentato però potrei anche modificarla in futuro con l'apprezzamento per la nomina di Sandro quando arriverà professore merito e con la certezza che questa onorificenza e il suo pensionamento non lo distoglieranno dalla sua instancabile anche se a volta frenetica concretezza progettuale e organizzativa auguri Sandro bravo Sandro benissimo grazie ancora professore grazie per essere qui e per la sua presentazione adesso vorremmo invitare tutti quanti a bere un caffè prima della presentazione della mostra quindi adesso il professor Borghesi e dopo la mostra fuori a sinistra mi dicono ah benissimo ma ci andiamo tutti insieme grazie allora riprendiamo riprendiamo con la presentazione della mostra ce la presenterà il professor Giuliano Bellodi che appunto ha seguito tutto quanto il lavoro è acceso buon pomeriggio a tutti prima di cominciare devo scusarmi perché sono molto emozionato e quindi leggerò il mio intervento che durerà una mezz'oretta e non lo farò a braccio come avrei preferito sono così emozionato che anche queste scuse le sto leggendo e sono sicuro che leggerò anche male per imitare un grande anch'io vi invito ad avere misericordia ma adesso verso di me ci siamo conosciuti il professore Alessandro Borghesi Sandro per alcuni amici e Dio più di 50 anni fa quando lui giovane neodiplomato perito elettronico dell'istituto Feltrinele di Milano cominciò a lavorare all'università di Pavia frequentavo quelle università ed ero laureando in fisica dello stato solido cominciamo a collaborare studiando le proprietà superficiali di alcuni semiconduttori con metodi elettrici e ottici e diventammo amici fraterni decise di iscriversi al corso di laurea in fisica e passo dopo passo iniziò la sua brillante carriera universitaria la laurea in fisica l'insegnamento a Pavia e poi la cattedra prima a Modena e poi a Milano Bicocca e ancora qui a Milano Bicocca la presidenza della facoltà di scienze io intanto avevo abbandonato la fisica dello stato solido per dedicarmi sempre all'università di Pavia alla didattica della fisica e al restauro della sezione di fisica del museo per la storia dell'università ricca di strumenti in particolare di elettromagnetismo e ottica alcuni dei quali risalenti alla fine del settecento e alla presenza a Pavia come docente di Alessandro Volta un altro Alessandro anche lui il Sandro per gli amici chissà l'inventore della pile elettrica poiché Sandro abitava a Pavia facendo il pendolare prima su Modena poi su Milano dove io ho sempre vissuto facendo il pendolare su Pavia continuavamo ad incontrarci anche se avevamo smesso di lavorare insieme in campo scientifico e poi una quindicina di anni fa un altro incrocio a 60 anni avevo deciso di andare in pensione quando Sandro mi coinvolse in una delle tante iniziative a cui aveva dato vita col passare degli anni il primo corso di laurea in ottica e ottometria a Cesio d'Italia per completare il quadro degli insegnamenti serviva un corso di carattere storico e Sandro mi convinse ad assumere l'incarico del corso di strumenti ottici e loro evoluzione storica che ho ottenuto fino al raggiungimento dei limiti d'età ecco perché sono stato coinvolto nella meritoria iniziativa di alcune delle più strette posso definirle giovani collaboratrici di Sandro quella di festeggiarlo dopo il pensionamento per il prossimo conseguimento del titolo di professore merito ulteriore traguardo della sua memorabile carriera ed ecco la giornata di oggi con la quale i suoi amici ci vogliono ricordare quello che in tutti questi anni lui ha fatto per noi per la ricerca sperimentale sulle proprietà dei materiali per la didattica e la sua organizzazione per la gestione dell'università e poi la mostra che andremo a visitare nella quale sono esposti dispositivi rappresentativi in qualche misura dello sviluppo scientifico e tecnologico di quei settori della fila sperimentale a cui si è rivolto il suo interesse che spessissimo come avete sentito arriva fino al coinveggimento manuale nell'allestimento e nel funzionamento dei dispositivi usati per l'esperimento in corso ancora oggi l'elettromagnetismo l'ottica e più recentemente l'ottometria per il mio passato mi è stato chiesto di collaborare alla scelta dei dispositivi da esporre cosa che ho fatto di buon grado anche perché la bravura e l'autonomia delle organizzatrici mi ha permesso di dare un contributo veramente minimo e mi è stato anche chiesto di raccontarvi qualcosa sulla mostra per seguire una sorta di percorso storico si parte con la prima bacheca dalla carica elettrica regina dell'elettromagnetismo come è stata prodotta come ne è stata messa in evidenza la presenza come è stata accumulata e conservata ecco allora i tipici materiali che per strofinio producono un'elettricità dalla classica ambra al vetro alla moderna plastica fino dal sesto secolo avanti cristo era noto ai greci che pezzi di ambra strofinati opportunamente con della lana sono in grado di attrarre oggetti molto leggeri come piume pagliuzze o frammenti di legno electron era il nome greco dell'ambra e da lì derivò il termine elettrico assegnato a tutti quei comportamenti simili a quello dell'ambra la debolezza e la rarità degli effetti elettrici dovuti a strofinio indusse probabilmente gli antichi osservatori della natura a ritenere che essi fossero poco importanti tanto che la prima esposizione non molto ampia dei fenomeni elettrici si ritrova nel libro De Magnete di William Gilbert pubblicato nell'anno 1600 ma è solo all'inizio del diciottesimo secolo che arrivò la formulazione di una spiegazione significativa il francese Charles Duffet propose l'esistenza di due fluidi detti resinoso l'uno e vetroso l'altro che conferivano ai corpi le proprietà di respingere quelli con fluido dello stesso nome e attrarre quelli con fluido di nome diverso un diverso modello fu proposto da Benjamin Franklin negli anni 40 del diciottesimo secolo basato sull'eccesso o sulla scarsità di un solo fluido che genera lo stato elettrico dei corpi positivo se in eccesso negativo se in difetto fu solo la scoperta degli elettroni alla fine del diciannovesimo secolo che portò alla descrizione corpuscolare dell'elettricità una bacchetta di materiale resinoso strofinata con lana acquista elettroni dalla lana e risulta carica negativamente una bacchetta di vetro strofinata con seta cede elettroni alla seta e risulta carica positivamente cariche elettriche dello stesso segno si rispingono cariche di segno opposto si attirano sono poi esposti strumenti per rivelare la presenza della carica elettrica e per dare su di essa valutazioni di tipo quantitativo per mettere in evidenza la presenza di cariche su un conduttore veniva utilizzato un semplice strumento detto elettroscopio costituito da due sottolissime foglioline d'oro o da due palline leggerissime di midollo di sambuco o di sughero sospese a fili appese all'interno di una bottiglietta cilindrica di vetro e collegate con un conduttore metallico esterno messo quest'ultimo in contatto con un conduttore carico le foglioline divaricavano tanto più quanto più carica passava dal conduttore alle foglioline fin dagli inizi del diciottesimo secolo si era capito che la carica che poteva essere accumulata su un corpo conduttore dipende dalla sua forma e dal suo volume questa caratteristica del conduttore fu definita capacità avendo ben chiaro che la divaricazione delle foglioline dipendeva oltre che dalla carica anche dalla capacità del conduttore Alessandro Volta verso la fine del settecento costruì uno strumento in grado di misurare il rapporto carica capacità che lui chiamava intensità di elettricità o tensione era simile ai precedenti elettroscopi ma la bottiglietta era a sezione quadrata chiusa da un fondo metallico le foglioline erano sostituite da leggere pagliuzze e sulla parete esterna era fissata una scala graduata così da poter valutare in modo efficiente il grado di divaricazione delle pagliuzze e quindi misurare l'intensità di elettricità o tensione l'elettroscopio era diventato un elettrometro diede quindi dei dettagli costruttivi in modo che gli elettrometri di sua invenzione abbiano a corrispondersi con sufficiente esattezza a riuscire cioè unisoni da chiunque e in qualunque luogo vengano costruiti a Ginevra a Parigi a Londra a Berlino allora tutti i fisici riportando le proprie esperienze di elettricità ad una misura comune invece delle determinate ed arbitrarie di cui si valsero fin qui verranno ad intendersi perfettamente fra loro quelli in mostra sono la riproduzione degli originali voltiani conservati presso l'Università di Pavia per riuscire a mettere in evidenza cariche molto deboli non rilevabili con gli elettroscopi più sensibili e misurare tensioni molto piccole volta avvitò in cima ad un elettrometro a piattel ad un elettrometro un piattello metallico appoggiandovi un secondo piattello isolato dal primo e collegato a terra o appoggiandovi una mano guantata si può sfruttare il fenomeno dell'induzione elettrostatica per accumulare più carica quando il piattello metallico collegato all'elettrometro è in contatto con un corpo carico ottenendo così un elettrometro condensatore scriveva a volta applico ad esso piattello allorché voglio condensarvi l'elettricità una zona di taffettacerato o verniciato che forma come un mezzo guanto aperto da ambilati nel quale entrano quattro diti riuniti della mano con questi diti così fasciati io copro e premo alquanto quel piattello posto in cima l'elettrometro intanto che il medesimo riceve da un lato o per di sotto l'elettricità da una sorgente qualunque infine ritirato il corpo elettrizzante dal contatto del piattello ne levo via anche la mano coperta dal suo guanto con prestezza giacché la prestezza contribuisce molto al buon successo allora veggi i pendolini balzare con vivacità e prendere quella divergenza che l'elettricità condensata nel piattello di cui sono dipendenze può loro dare sempre sulle interazioni elettriche sono basati gli altri elettrometri esposti da quello dotato di micrometro al semplicissimo di Enley una paliguzza fissata ad un estremo immobile davanti a una scala semicircolare a quelli più moderni sofisticati sensibili e precisi il bifilare di palmieri molto usato nella seconda metà dell'ottocento soprattutto per misurare l'elettricità atmosferica il Dolezalek versione moderna del classico elettrometro a quadranti di Lord Kelvin usato nella prima metà del novecento e il robusto e anch'esso semplicissimo elettrometro di Brown ancora utilizzato per scopi didattici infine i magazzini fin dal settecento il tentativo di realizzare sistemi capaci di catturare la maggior quantità di carica possibile portò nel 1740 circa in modo piuttosto fortuito alle cosiddette bottiglie di Leida dal luogo dove avvenne la scoperta delle loro proprietà elettriche si trattava delle prime realizzazioni in forma di bottiglie appunto di quelli che oggi si chiamano condensatori sistemi fisici capaci di immagazzinare grandi quantità di elettricità e che furono causa della prima morte di un uomo dovuta ad una carica elettrica prodotta dall'uomo stesso si tratta sostanzialmente di una bottiglia di vetro munita di un'armatura metallica esterna piena d'acqua nella quale viene immerso un chiodo metallico il cui estremo esterno è inserito in una sferetta pure metallica furono poi utilizzati condensatori a facce piane parallele separate da un materiale isolante o semplicemente da aria come quello in mostra nella quale è variabile l'area delle armature affacciate la seconda bacheca a quattro lati è dedicata alla carica elettrica in movimento cioè alla corrente elettrica a come si produce ai suoi effetti a come si misura con metodi elettrostatici era possibile ottenere flussi di cariche anche abbastanza intensi ma questi erano troppo rapidi e difficilmente quantificabili il traguardo di ottenere una sorgente di corrente elettrica intensa e continua nel tempo fu raggiunto per primo da volta con un generatore elettrochimico nel darne notizia nel marzo del 1800 volta sottolinea la semplicità del suo apparato costituito da una pila di coppie di dischetti metallici rame e zinco separate da dischetti di cartone o di cuoio imbevuti di acqua salata lisciva o altro liquido conduttore e però capace collegando i dischetti estremi di mantenere un flusso continuo di cariche era nata la pila di volta e il mondo era entrato nell'era dell'elettricità ecco allora nel primo lato le riproduzioni di alcune pile di volta i cui originali sono conservati nel tempio voltiano di comu e altri tipi di pile nel secondo lato alcuni conduttori della corrente elettrica che al suo passaggio li riscalda nel terzo lato un elettromagnete che suggerisce come un filo percorso da una corrente elettrica avvolta attorno a un pezzo di ferro traformi quel ultimo in una calamita e due strumenti che sfruttano questa proprietà per misurare l'intensità della corrente che li attraversa il primo un galvanometro questo il nome che venne ben presto attribuito ai misuratori di corrente tipo depres d'Arsonval sfrutta l'interazione tra un magnete fisso e una bobina percorsa dalla corrente da misurare mobile tra i poli del magnete il secondo l'amperometro a risucchio è costituito da un avvolgimento di filo verticale un solenoide che quando è percorso dalla corrente da misurare risucchia al suo interno un cilindro di ferro sospeso mediante una molla l'allungamento di questa misurato mediante un indice ad essa solidale e mobile davanti a una scala graduata permette di valutare l'intensità della corrente infine nel quarto lato altri strumenti per misurare l'intensità della corrente e la grandezza ad essa collegata la differenza di potenziale che spesso comunemente viene chiamata tensione usati anche per scopi didattici prima di passare alla terza bacheca è bene ricordare che giocare con la corrente elettrica insomma lo si può fare ma entro certi limiti inoltre a proposito di nuove tecnologie citiamo anche una innovativa soluzione tecnica quando la parte metallica tocca la parte metallica della presa ormai all'esterno c'è solo più la parte isolata quindi ci sono delle soluzioni tecniche anche se non c'è una grossa sensibilizzazione per adottare queste parti queste soluzioni tecniche normalmente le case vengono fatte ancora comprese proprio per risparmiare nel fondo si risparmiano le 300 lire insomma non è che si risparmi tanto quindi certamente potrebbe essere un discorso da portare avanti si ha difficoltà a trovare queste cose però la strada è certamente quella di puntare anche sull'aspetto tecnico e comunque sulla sensibilizzazione delle persone per questi problemi lire quanto tempo con la terza bacheca anch'essa di quattro lati si passa ad un altro argomento l'ottica nel primo lato sono presenti tipiche sorgenti di luce da una lampada a fiamma ad una gas e a una d'arco il cuore della lampada d'arco è costituito da due bacchette verticali di carbone con due punte affacciate tra queste viene innescato un arco elettrico una sorta di scintilla continua che facendo evaporare il carbone produce produce un'altissima temperatura e una luminosità molto intensa un sistema di regolazione elettromeccanico mantiene costante la distanza tra le punte delle bacchette e quindi l'intensità dell'arco man mano che il carbone si consuma nel secondo lato sono mostrati dispositivi in grado di modificare il cammino di raggi luminosi dalle classiche lenti alle più sofisticate lenti di Fresnel progettate per essere utilizzate nei fari ed usate per esempio nelle lavagne luminose nel terzo lato oltre a un classico apparecchio didattico per la misura degli angoli di riflessione e rifrazione di raggi incidenti sulla superficie di separazione tra due mezzi trasparenti diversi sono contenuti alcuni dispositivi in grado di mostrare la scomposizione cromatica di un fascio di luce bianca incidente spettro della luce prismi di vetro e reticoli di diffrazione i primi ad esempio sono basati sul fenomeno della dispersione cioè sulla capacità dei mezzi trasparenti come il vetro o anche l'acqua di rifrangere le diverse componenti monocromatiche di un raggio di luce bianca ad angoli diversi grazie ad essi Newton fu il primo a teorizzare che la luce bianca è una miscela di infinite componenti colorate dal rosso al violetto cioè come scrisse lui stesso nel 1672 la luce bianca non è simile o omogenea ma consiste di raggi diversi alcuni dei quali sono più rifrangibili degli altri con la dispersione della luce è possibile spiegare anche il fenomeno dell'arcobaleno questi dispositivi costituiscono il cuore di diversi strumenti monocromatori spettroscopi spettrometri largamente usati da Sandro nelle sue ricerche nei monocromatori sostanzialmente l'immagine di una fenditura illuminata da luce bianca viene allargata in uno spettro che una seconda fenditura terminale sezione in fette così da ottenere una sorgente di luce abbastanza monocromatica tanto più quanto più è sottile la fenditura negli spettroscopi invece si osservano proiettate su una scala graduata le diverse componenti monocromatiche caratteristiche della luce emessa da ogni elemento presente in un gas portato all'incandescenza consentendone l'individuazione nel quarto lato infine sono esposti due microscopi uno semplice con una sola lente e uno composto a più lenti il primo molto più usato in campo scientifico almeno fino alla prima metà dell'ottocento perché più efficiente in grado di far vedere oggetti molto piccoli e un polariscopio che permette di osservare una delle caratteristiche delle onde luminose la loro trasversalità con la quarta bacheca ancora si cambia argomento qui sono raccolti dispositivi che riguardano il più recente degli interessi di Sandro l'optometria per promuovere l'avvio del corso di laurea in ottica e optometria Sandro ebbe molti contatti con ottici e ottometrisi italiani tra i quali la signora Chierichetti titolare di un noto ed antico in negozio con sede in Milano la signora Chierichetti è proprietaria di una ricchissima e splendida collezione di strumenti ottici antichi i due hanno deciso di trasferire una parte della collezione con le bacheche che la contenevano qui alla Bicocca ed ora in queste bacheche è stata allestita la mostra di cui vi sto parlando e nella quarta appunto sono stati inseriti insieme a qualcosa proveniente dal museo di Pavia alcuni degli oggetti più significativi per l'optometria della collezione Chierichetti l'optometria ha come scopo quello di correggere gli eventuali difetti della capacità visiva dell'occhio anche valutandone la funzionalità nel tempo sono stati proposti numerosissimi dispositivi in grado di ottenere questo scopo sempre più efficienti con il progredire della tecnologia a cominciare dagli occhiali prodotti per la prima volta in Italia sul finire del XIII secolo con lenti all'inizio di vetro e solo biconvesse usate per correggere la presbiopia inesorabile deterioramento dell'occhio cui erano particolarmente sensibili i frati amanuensi di quel tempo e poi con lenti e foggi diverse ecco quella fresco è la più antica rappresentazione di un'ota di un paio di occhiali e risale al 1352 potrete ammirare quattro campioni di occhiali il primo ancora simile all'originale anche se molto più recente il secondo tipico del XVIII secolo il terzo del XIX secolo e il quarto con un foro stenopeico per aumentare la profondità di campo pensato per un tiro a segno vedrete poi un modello di occhio ottocentesco portato da pavia nel quale è messo particolarmente in luce il ruolo delle lenti c'è poi una ricchissima cassetta di prova fornita di occhiali di prova ai lenti di prova grazie ai quali è possibile decidere quale deve essere la potenza delle eventuali lenti correttive che una persona deve usare per vedere correttamente o al meglio delle opportune tabelle costituite da lettere o simboli disposte su più righe di diverse dimensioni osservate ad una precisa distanza e dette otto tipi all'inizio del novecento entrò in uso un apparecchio dotato di particolari accessori capace di consentire tutti i test ed eventualmente anche esercizi che prevedevano l'uso di prismi montati su un braccio e una colonna regolabili il forometro di cui è esposto un bel esemplare con l'aggiunta di una serie di dischi contenente lenti positive e negative sferiche e cilindriche più una serie di filtri diaframmi e lenti accessori per esami rifrattivi si sviluppò in quello che prese il nome di foro optometro o più semplicemente forottero vera e propria sintesi evolutiva dell'occhiale e della cassetta di prova è lo strumento col quale normalmente l'optometrista valuta la qualità della vostra capacità visiva sono esposti anche due strumenti in grado di misurare il raggio di curvatura e il potere delle lenti il più semplice è uno sferometro sostanzialmente un misuratore di spessore che permette di risalire al raggio di curvatura di una lente misurandone appunto lo spessore di una calotta sferica l'altro è un frontifocometro col quale è possibile misurare il potere di una lente sottile che è proporzionale allo spostamento di una mira che deve essere vista a fuoco da un telescopio ancora da Pavia viene l'optometro di Young strumento proposto per primo dallo scuzzese William Porterfield nel 1737 e che come scrive lui stesso era in grado di misurare i limiti della visione distinta e determinare con grande precisione la forza e la debolezza della vista Thomas Young modificò lo strumento di Porterfield e lo usò per studiare l'accomodamento dell'occhio e con esso scoprì di essere astigmatico facendo sul finire del settecento la prima misura di astigmatismo nota sempre dalla colazione Chierichetti provengono tutti gli altri strumenti optometrici presenti alla mostra si tratta di strumenti capaci di esaminare diverse parti dell'occhio per individuare eventuali patologie a cominciare dall'oftalmoscopio inventato da Helmholtz nel 1851 col quale per la prima volta è stato possibile osservare l'interno e la retina di un occhio vivo con poche modifiche lo strumento è ancora molto usato oggi c'è poi l'oftalmometro in grado di misurare il raggio di curvatura della cornea nei diversi meridiani e quindi fondamentale per lo studio dell'astigmatismo fu proposto nel 1853 da Helmholtz che così iniziava la sua descrizione ho costruito uno strumento di misura che permette di eseguire esattamente sull'occhio queste misure ed altre ancora senza che siano influenzate dai piccoli movimenti della testa all'originale di Helmholtz furono fatte successivamente diverse modifiche ma la variante più diffusa e utilizzata con poche modifiche di carattere funzionale anche ai giorni nostri fu quella semplice e pratica proposta nel 1881 da Javal e Schioz per osservare le condizioni di curvatura della cornea fu molto usato il semplicissimo disco di placido proposto nel 1880 è costituito da un cortone bianco sul quale sono disegnati cerchi neri concentrici equidistanti con una lente positiva al centro per l'osservazione ravvicinata dell'immagine riflessa dalla cornea se la cornea riflette cerchi regolari è sferica se questi appaiono ellittici o comunque deformati si rivela la presenza di astigmatismo ed ecco due stereoscopi strumenti in grado di presentare al cervello due immagini leggermente diverse di un soggetto come se fossero viste ognuna da un occhio il cervello le analizza e alla fine vede il soggetto in tre dimensioni proposto per la prima volta da Winston nel 1838 fu successivamente utilizzato con opportune modifiche tra le quali quelle di Brewster per gli scopi più diversi dall'istruzione al divertimento dalla diagnosi alla terapia dello strabismo facendo fare esercizi in visione binoculare nel tentativo di correggerlo possiamo affermare che le moderne tecnologie 3D sono nate in quegli anni ed ancora il tonometro in grado di misurare la pressione il tono intraoculare e quindi essenziale per il controllo del glaucoma cioè del possibile danneggiamento fino alla cecità del nervo ottico dovuta alla eccessiva pressione oculare a partire dal 1862 il celebre oculista olandese Donders e i suoi allievi proposero uno strumento detto ad indentazione adatto a misurare la profondità di impressione prodotta sulla parete oculare da una punta sottoposta ad una forza nota nel 1905 l'allievo e successore di Donders Schioz propose il modello di tonometro che grazie alla sua facilità d'uso e al basso costo divenne di gran lunga il più usato e che con poche modifiche è ancora utilizzato oggi infine c'è una lampada a fessura strumento progettato dal professore di oftalmologia vedese Alvar Gultrand che anche per esso fu insignito del premio Nobel per la medicina nel 1911 si tratta sostanzialmente di una sorgente illuminosa che può essere limitata da una fenditura regolabile utilizzata con un microscopio per osservare la parte anteriore dell'occhio fino al cristallino con le modifiche successive ad esempio la lampada montata su un braccio rotante e con l'adattazione di vari accessori lo strumento è diventato così versatile da permettere di osservare tutte le parti dell'occhio e qui mi fermo ricordandovi che ora ci sarà per chi lo desidera la visita alla mostra grazie questo grazio finale non l'ho letto è l'unica cosa a braccio grazie mille al professor Bellodi e adesso visitiamo la mostra ma magari il professor Borghesi vuol dirci due parole beh naturalmente volevo ringraziare molte persone però prima di ringraziare mi è venuta in mente una cosa sentendo Bellodi che parlava dell'elettricità dunque c'è un episodio storico che lui non ha citato di Ampere che presentò la sua scoperta sulla corrente all'Accademia delle Scienze di Parigi davanti a tutti i politici e tutte le persone che c'erano lì e come capita spesso a noi fisici sperimentali che presentiamo qualcosa davanti a qualche pubblico non completamente a dentro e chiede ma questa roba qui che cosa serve era la domanda ricorrente tutti gli chiedevano ma che cosa serve questa roba qui e lui dice ma io veramente che cosa serve non lo so però sono sicuro che prima o poi ci sarà un politico che ci metterà su una tassa va bene io voglio ringraziare naturalmente tutti voglio ringraziare in primis i rettori che sono venuti qui tre rettori il professor S.S., il professor Fontanesi e il professor Stella dell'Università di Pavia voglio ringraziare gli oratori Porro Martini e Guizzetti che sì non sono andati sul necrologio ma insomma si sono mantenuti lì in bilico insomma bastava una scivolatina ed eravamo ed eravamo comunque devo dire che hanno mantenuto questa raccomandazione un grande e poi voglio ringraziare tante altre persone voglio ringraziare la Civardi che è qui rappresentante dei presidi che si ricordava i nostri incontri in presidenza con i dolci che giravano insomma e quindi Cervo Allar che era il ghiottissimo del Flanti ricordi che ci dava tutti i posti dopo aver mangiato riuscivamo ad avere vado ringrazio i colleghi della facoltà che ne vedo molto che sono appunto come diceva Fontanesi i nostalgici della facoltà perché la facoltà ce l'hanno soppressa ce l'hanno chiusa per un po' di nostalgica quando c'era tutti dicevano la facoltà che barba sempre le solite cose adesso che non c'è la rimpiangiamo voglio ringraziare anche i colleghi delle aziende che sono qui che sono quelli della Memc ST con cui abbiamo lavorato tanti anni insieme i colleghi di Federottica e di Milano Accofis che sono venuti anche qui molte persone voglio ringraziare anche molte persone dell'università l'elenco sarebbe lungo complicato certamente il primo che vorrei ringraziare sono i RIS della Bicocca i RIS della Bicocca sono governati e capitanati da Cavallotti che ci ha sempre che mi ha sempre aiutato che ci ha sempre aiutato tantissimo Cavallotti è stato un riferimento è stato un riferimento veramente importante è stato quello che lo ricordavamo prima con Fontanese adesso lui dice che non è vero ma insomma lui e Cavallotti ci hanno veramente messo l'anima per questa questa aula io sono stato insistente perché mi lamentavo che non c'era una sala laurea di scienze mentre tutti l'avevamo e gli ho detto visto che la facciamo dobbiamo farla la più bella e questo è avvenuto credo che sia davvero poi non siamo ogni tanto eravamo presi dall'idea di dire ma si la cambiamo un po' questa è di Gregotti il progetto Cavallotti dice costa troppo tutte queste cose curve così cerchiamo di fare qualcosa invece poi Fontanese dice no no ma perché aspettiamo magari qualche po' è veramente un'aula splendida e lo dobbiamo credo di dover ringraziare Fontanese che ci ha consentito come facoltà di avere una sala laurea degna di questo che è la più bella no però dico tu sei della facoltà volevo dire e poi non so ho veramente tutti da ringraziare voglio poi infine dire veramente io mi sono trovato molto bene in questa università quindi voglio ringraziare alla fine questa università che mi ha dato davvero tanto io credo di aver fatto un mestiere fantastico credo addirittura di essere lo dico spesso di essere stato pagato per un hobby quindi forse di aver fatto questo mestiere qui anche se non mi pagavano a un certo punto quando no l'ho sempre detto anche prima ecco questo adesso qui l'ho sempre detto anche prima perché l'ho sempre pensato insomma quindi comunque adesso vi ringrazio tutti siete davvero stati molto gentili e spero di rivedervi grazie a tutti Grazie.